Siamo qui in piazza Wagner, ovviamente per Radio Punto Zero, Serena Bassi qui con l'onorevole Michela Vittoria Brambilla e il nostro candidato per la regione Lombardia, Manuela Giganti, anche Simone Pavesi però dietro di me. Insomma siamo qui per il movimento animalista, quindi in vista delle elezioni del 4 marzo, oggi è stato organizzato un evento qui a Milano nominato Io posso entrare, corretto onorevole? Una vera e propria rivoluzione dell'accessibilità perché vogliamo rendere più semplice la vita a quei milioni di italiani che convivono con un cane come un mare domestico e non devono più incorrere inutili, assurdi divieti anacronistici naturalmente nel rispetto delle normative di gente in tema di sicurezza, di igiene piuttosto che delle esigenze di tutti. Ma gli animali sono membri della famiglia e quindi devono poterci seguire ovunque. Questo quindi è uno dei vari punti di questo programma ricchissimo elettorale proprio per tutti gli amanti di animali. Quindi a questo punto io darei al volo anche la parola a Manuela Gigante, appunto candidata per la Lombardia, che ci spiegherà nel caso proprio come tecnicamente il 4 marzo votare per il movimento animalista. Grazie. Esatto. Allora, scheda verde, barrare Forza Italia e scrivere Gigante e Pavesi. Si può avere la doppia preferenza, quindi di genere maschio e femmina. Solo maschio e femmina, non due maschi e due femmine, se no la scheda verrà cancellata, non è valida. Quindi, barrare Forza Italia e scrivere Gigante e Pavesi. Così avreste, avrei parlato e detto, scusate, un animalista in regione o due animalisti in regione. Mi raccomando. Grazie a tutti. Speriamo due. Esatto. Uno o due. Speriamo almeno uno o due. Sì, si può essere, noi due sono due. Ovviamente i due candidati, Simone Pavesi e Manuela Gigante. Sì, si, li do io. Ciao. 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 Ciao.